Gli agenti della squadra mobile di Vibo Valenza hanno arrestato due persone per coltivazione di marijuana, detenzione abusiva di armi, nonché detenzione illegale di parti di armi e munizioni. Gli agenti della sezione antidroga e del posto fisiotropea, supportati in fase operativa e da unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della questura di Vibo Valenza, nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata alla repressione e al contrasto del traffico di droga, svolta in seno ad un fascicolo processuale della Procura della Repubblica di Vibo, hanno eseguito una serie di perquisizioni nell'abitato di Ioppolo, durante le quali, all'interno di alcuni stabili e aree disabitate, sono state trovate e sequestrate circa 800 piante di canapa indiana in fase di essicazione, per un peso complessivo di circa 8 chili, nonché 94 cartucce calibro 12 e 38 special, un caricatore vuoto per pistole e un kit per la pulizia delle armi. Per scoprire chi fosse legato a questi ritrovamenti sono state analizzate le immagini di alcune telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di individuare i due arrestati. Durante gli arresti è stata rinvenuta altra marijuana contenuta in sei sacchetti di cellofan per un peso complessivo di 1,8 kg e una bilancina di precisione.